form group aperta tonda, aperta graffa e questo luogo lo porto qua dentro ovviamente se adesso io salvo e andiamo a vedere anche la console mi da un errore, perché? come abbiamo visto prima quando cambiavo praticamente il nome del form control lui mi dice guarda che non riesco a trovare la property luogo, perché? perché dobbiamo dirglielo quindi qui dovremmo creare un ng container nel ng container diremo che si prende il form il form group form group net non me lo suggerisce il form group form.controls. per distanza vediamo se riesco a farvelo vedere meglio e questo lo mettiamo fino a qui a questo punto non è più form.controls.luogo ma è form.controls.per distanza per distanza punto.controls perché per distanza è un form group e controls.luogo invalid e la stessa cosa la facciamo qui salviamo come vedete il json è cambiato adesso abbiamo un raggruppamento per distanza luogo e se io scrivo qui viene compilato se cambio non vedo più niente però non è cambiato il json risultato simpatico no? perfetto a questo punto dobbiamo fare per distanza ok per distanza cosa significa? in realtà per distanza l'abbiamo fatto ma anche per il percorso per il percorso dobbiamo dare una destinazione un arrivo magari delle tappe intermedie ok quindi diciamo che sono tanti elementi uno sotto l'altro che magari l'utente può decidere di aggiungere o non aggiungere quindi adesso andremo a vedere i formarray i formarray appunto ti permettono di avere una lista all'interno di di un formgroup ok quindi sono fatti apposta per poter aggiungere uno o più elementi una cosa scusate e mi sono dimenticato in questo momento il tipo di ricerca abbiamo definito se voi andate qui sopra vedete mi dice che è un formcontrol di string ovviamente se io qui metto form123 non succede niente no perché perché è una stringa in realtà abbiamo definito che questo tipo di ricerca questo controllo tipo di ricerca può assumere soltanto il valore o percorso o distanza come facciamo questa è una delle novità introdotte in angular 15 magari se riusciamo ad andare qui qui questo distanza in realtà assume soltanto due valori distanza o percorso in angular 15 hanno introdotto i type e the form cioè io qui su formcontrol già in realtà li stavo usando perché mi diceva che era un tipo stringa ma qui posso definire il vero tipo di questo formcontrol in questo caso possiamo dirgli che può assumere il valore di distanza oppure e vediamo come l'avevo chiamato prima per distanza vedete percorso qui già mi da un errore perché mi dice non esiste adesso metto la keyword percorso vedete errori non succedono in realtà non cambia nulla ma cos'è che cambia sotto è che avrò degli errori a compile time nel caso in cui magari in html mettiamo percorso 1 quindi è molto utile tipizzare i form questa è una delle novità abbiamo aspettato 15 versioni per poterlo avere e credetemi vi salva la vita se voi tipizzate i formcontrol vi salva la vita vabbè piccola piccola regressione andiamo a vedere i formarray ok poi adesso vedremo anche che sul formarray useremo molto i type form perché perché tornano molto utili poter tipizzare i vari controlli possiamo anche tipizzare il formgroup e adesso andremo a vederlo abbiamo raggruppato il formgroup abbiamo sistemato il formcontrol abbiamo visto che funziona il tutto andiamo a fare il formarray ovviamente anche qui il luogo che tipo è è di tipo stringa in maniera tale che se io qui ad esempio metto un numero mi dà un errore perché? perché questo accetta soltanto string il formcontrol creiamo un nuovo formgroup per percorso ok new formgroup